Andiamo avanti, il ginocchio avanti, uno va dietro e spira, avanti inspira, dietro espira, avanti inspira, dietro piede a martello, avanti il bacino non si muove, dietro espira, avanti la pancia dentro e il ginocchio molto dietro, di nuovo inspira avanti e dietro. Ancora inspira avanti e dietro, inspira avanti, dietro stop, spostiamo più dietro possibile il ginocchio, teniamo la pancia dentro, stringiamo i glutei, pieda ballerina, solleviamo il braccio destro verso il soffitto, ok, la gamba farà otto cerchi. Andiamo avanti, avanti, apro, dietro e chiudo, di nuovo, avanti, alzo, apro, dietro, avanti, ballerina, alzo, apro, dietro, avanti, non muovo la schiena, bacino fermo, braccio perfetto, avanti, 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 prendo l'aria, la butto fuori, continuiamo, uno, due, ballerina, respira, uno, due, tre, ultima volta, uno, due, tre, chiudo due gambe insieme, stendo due gambe giù Giù e...